Il basking è uno sport per tutti e questo poter permettere a tutti di giocare è consentito grazie ad un'adattabilità del campo e del regolamento. Il campo rispetto al campo di palacanestro ha i due canestri alle estremità della linea laterale di metà campo che sono posizionati all'interno di un'area protetta. Questo per permettere ai giocatori con disabilità che non possono sfruttare le loro caratteristiche all'interno del campo tradizionale di poterli permettere però di esprimersi all'interno dell'area protetta. Il basking è per far non solo capire, per far far amicizia alle persone e per far capire a tutti che tra disabile e persona normale non ci differenza, siamo tutti uguali. È da quattro anni che lo frequento e io mi sono aperta a livello anche umano. Quindi si cresce, non ci si affida alle diagnosi cliniche o al tipo di disabilità che ha il giocatore ma ci si affida a quello che ognuno sa fare. Mi piace molto più di palacanestro. Perché più della palacanestro? Perché ti diverti più, mi diverto, mi fa tutti i falli, ti tuta, ti corre, litica. Abbiamo fatto 44 punti, siamo stati bravi, dai. La partita è stata dell'analinica e anche bellissima dal punto di vista sociale e anche comunicativo. Soddisfatta? Eh ma certo, come no? È un messaggio di integrazione e soprattutto per i ragazzi che non solo quelli disabili ma anche altri che possono avere altre problematiche di autostima, di bassa autostima. Infatti nella nostra squadra ci sono tantissimi ragazzi che non praticano nessuno sport e si sono avvicinati anche per vedere come funzionava questo tipo di attività e poi gli è piaciuto ed è rimasta qui con noi. In questo sport non si valutano le eccellenze ma l'eccellenze assieme alle fragilità. Tutte e due contribuiscono a raggiungere l'obiettivo finale che è quello dello stare insieme ma anche quello di poter raggiungere l'obiettivo finale che è quello di vincere una partita. Hai giocato bene, sei soddisfatta del risultato? Sì! Com'è andata la partita? Bene! 1, 2, 3, buona partita! Grazie!